Il Consiglio Comunale di Barletta ha approvato la transazione di 260.000 euro a favore dell'ex presidente del Barletta Roberto Tatò, che come ha detto ironicamente un tifoso, ne faceva tanto di bisogno. L'approvazione è avvenuta al termine di un dibattito surreale e che a tratti nulla aveva a che fare con l'oggetto della discussione. Il Consiglio doveva infatti decidere se era giusto, congruo e lecito accordare a un cittadino la non indifferente somma di 260.000 euro. Da molti interventi è invece venuta fuori la tesi sconcertante che quella somma dovesse essere accordata a prescindere perché il cittadino in questione, cioè Tatò, era cittadino più cittadino degli altri, avendo oltretutto minacciato di far saltare l'accordo per il passaggio della società Barletta Calcio al nuovo presidente Perpignano, qualora il Consiglio non avesse approvato la transazione. Allora a costo di essere impopolari è bene fare delle puntualizzazioni, fermo restando che se quei soldi si attrattò spettavano, il Consiglio ha fatto bene a darglieli e se così non era sarà la Corte dei Conti a dirlo, è bene chiarire che salvatori della patria non ce ne sono perché anche qualora fosse mancato il numero legale mantenuto dal centrodestra che se ne fa gran vanto anche sui social network, la transazione sarebbe stata comunque approvata oggi in seconda convocazione. Il passaggio della società si sarebbe comunque concluso, siamo infatti convinti che la minaccia di Tatò fosse una butade per allarmare i tifosi e far pressioni sul Consiglio. Per quanto se ne possano dire, e noi non gliene abbiamo mai fatte mancare, un uomo da fare come lui non avrebbe mai fatto saltare un accordo che con la transazione aveva ben poco a che fare. Ci chiediamo però se tutto era chiaro e le carte erano a posto, come si è detto ieri in Consiglio, perché la seduta è iniziata con il ritardo record di due ore e mezzo, undici consiglieri erano assenti di cui otto di maggioranza solo in parte giustificati. Si è dovuto discutere quasi tre ore e il sindaco, prima della votazione, ha dovuto chiedere una sospensione di mezz'ora e dichiarare che sull'approvazione della transazione era disposto ad assumersi tutte le responsabilità anche di fronte alla Corte dei Conti. Evidentemente delle perplessità legittime esistevano. Non entriamo nel merito, ma le affermazioni che chi non ha votato il provvedimento e contro il calcio a barretta sanno di bassa mistificazione, soprattutto se provenienti da consiglieri, quelli del centro-destra, sempre pronti a far mancare il numero legale di fronte alle defaianze della maggioranza, anche se si tratta di affrontare problemi importantissimi. Un concetto espresso da Damiani e soprattutto Alfarano, maghi della fuga dalle responsabilità. Ad Alfarano viene da chiedere, ad esempio, dove fosse quando insieme ad altri 26 consiglieri era assente, consentendo a 14 presenti di approvare una lottizzazione di 50 ettari a Montaltino. A fronte di ben altra responsabilità era in fuga al galoppo. Correva così veloce che chi lo avvistò quel giorno racconta di averlo sentito addirittura nitrire. Dopo la transazione il Consiglio ha approvato anche gli altri quattro debiti fuori bilancio all'ordine del giorno che riguardavano cittadini normali. Una considerazione finale. I ritardi nell'inizio dei lavori del Consiglio ci sono sempre stati, ma in questa consigliatura si sono raggiunti livelli inaccettabili. La Presidente del Consiglio Comunale dimostri di avere le capacità di ricoprire il ruolo anche facendo iniziare la seduta puntualmente o con una tolleranza massima di un quarto d'ora, mezz'ora, e di sciogliere la seduta se non c'è il numero legale. Questo nel rispetto dei regolamenti, dei cittadini presenti in Consiglio davanti alla tv, dei consiglieri puntuali e giusto in fondo anche della stampa. Contiamo di farne una battaglia di civiltà, non essendo disponibili ad assecondare un comportamento offensivo e operato da chi ritiene di poter fare sempre i comodacci propri, perché tutto gli è concesso.